Allora, buongiorno a tutti, io sono Cristian, anche conosciuto come Harvard 100 Online, sono uno sviluppatore più studente che sviluppatore 21enne e oggi vi porto un mio più che piccolo progetto della mia piccola esperienza nel far parte di una comunità soprattutto estera interessata nello sviluppo di console antiche e ovviamente anche modding, come si può effettivamente vedere dal titolo. Oggi parlerò della nostra emulazione e di come siamo riusciti a mandare il Game Boy online in tempi recenti. Parto prima di tutto introducendo quello che effettivamente era la vera infrastruttura di cui noi ci siamo basati, infatti parlo di emulazione proprio perché io personalmente ho scoperto un paio di anni fa l'esistenza di un vecchio adattatore che si collegava a telefoni giapponesi standardizzati siccome il Giappone anticamente era pieno di tutto e già tutto lo standard per quanto riguarda il reparto mobile rispetto a noi che magari avevamo un connettore proprietario della Nokia, il connettore proprietario della Motorola chi magari si ricorda, loro avevano già connettori standardizzati, MOVA per i cellulari di vecchia generazione e FOMA per i cellulari di nuova generazione. Infatti come si può vedere dall'immagine l'adattatore è uscito in tre varianti, il PDC che era un classico 2G, CDMA1 e DDI che sono tecnologie rispettivamente 3G. Ovviamente sono tecnologie diverse da quelle che noi abbiamo avuto. L'addon sostanzialmente consentiva di giocare online attraverso cartucce particolari che includevano il supporto all'eventuale addon e anche di vedere effettivamente delle mail di cui la cartuccia integrata nell'addon consentiva di fare ciò neanche di sostanzialmente guardare delle pagine internet per eventuali novità che potevi guardare direttamente da Nintendo. Ovviamente questo addon è stato rilasciato esclusivamente in Giappone il 27 gennaio del 2001 che ha avuto una vita molto breve. Infatti è stato abbandonato quasi un paio di mesi dopo il 17 luglio del 2001. Un addon concepito assieme a Konami e Nintendo che hanno partecipato assieme sia per la produzione dell'hardware sia per la produzione di alcuni giochi come Mail The Cute e si affidavano invece per il servizio online ad un data center esterno che è sostanzialmente quello di un provider giapponese famoso che si chiama AU. L'immodalità di utilizzo di questo servizio siccome si parla di un po' dell'antica era abbastanza semplice. Comprando l'addon ricevevi un foglio dove dovevi inviare le tue credenziali sostanzialmente dove abitavi e tutto quanto, inviarlo via posta e pagare una piccola penale più che altro penale attivazione del servizio per poter ricevere i tuoi effettivi dati d'accesso che consistevano in un'email tra l'altro collegata al resto della rete giapponese di fatti dampando le cartucce abbiamo trovato anche delle email inviate ad un Dreamcast effettivamente. Un ID particolare che era il tuo ID dell'utenza, ovviamente una password per giocare. Il funzionamento una volta collegato l'addon dovevi collegare la cartuccia del mobile trainer che è la seconda, quello specifico nella visualizzazione di un'email per fare la configurazione iniziale dell'addon dove venivano salvati alcuni dati come la tua utenza e la password. Fatto ciò eri effettivamente pronto per poter utilizzare tutti i giochi compatibili con questo servizio. Ovviamente siccome si tratta di dover lasciare a dei bambini giapponesi, specie dei primi anni 2000, un cellulare, potevano aver avuto conseguenze un po' disastrose per quanto riguarda il parental control e la gestione con i genitori. Difatti l'addon aveva una sua mini intranet di cui tutti si collegavano esterni alle altri di cui ad esempio Pokémon Cristallo la utilizzava per gli scambi dei Pokémon o la visualizzazione delle mail. Mobile trainer, appunto la cartuccia di cui ci dato precedentemente, serviva per vedere un browser web. Oltretutto c'era un limite massimo di 10 minuti con il quale potevi rimanere collegato al servizio perché a quei tempi giustamente l'internet si pagava a minuti, quindi avevi un costo di 10 yen per minuto, sostanzialmente qualche centesimo per minuto e anche un massimo di spese che potevi avere mensilmente per evitare che i bambini spendessero troppi soldi sostanzialmente. Questo perché alcuni servizi, ad esempio quelli di Pokémon Cristallo per vedere le ultime novità del mondo Pokémon costavano a pagamento, ma cifre minuscole come 100 yen, quindi sempre qualche centesimo. Anche dover fare gli scambi era un servizio a pagamento. Quindi diciamo a livello dei costi, oltre ad avere un telefono, la console, i giochi e l'adattatore, c'erano anche questi costi aggiuntivi che venivano effettivamente anche da parte. Quindi si può dire un addon un po' esotico, anche abbastanza costoso. Purtroppo dopo la discontinuazione dell'adapter nella scena del Game Boy si è stato muto per un paio di anni, fin quando un utente su un vecchio forum, ormai purtroppo chiuso, chiamato Glitch City Laboratories, ha reversato ed emulato una primissima versione dell'addon per il mobile adapter, codice di cui noi ci siamo basati successivamente per la creazione di questa infrastruttura. Io ho avuto mia esperienza a contatto verso il 2018 attraverso un disco linkato in quello che poi sarebbe diventato appunto, come scritto nella slide, Reon, il nome del progetto al quale sto cooperando, che tratta di sia di emulare questo addon per l'hardware fisico, ma sia emularlo anche per ovviamente gli emuratori, per chi non può consentire di avere un hardware fisico. Abbiamo l'ambizioso obiettivo di emulare tutti i giochi supportati, seppur pochi, sono più di 20 sostanzialmente, 21-22. Il numero di giochi supportati è una sfida molto importante siccome ogni gioco aveva dei suoi dati particolari. L'addon, come spiegherò più avanti, non sarà altro che un piccolo ponte per collegarsi all'online, ma tutti i dati specifici dei videogiochi sono specifici per i loro videogiochi, quindi è una sfida molto più grande, soprattutto considerando che l'addon funzionava sia per il Game Boy Color, di quale è la console che originariamente è stato rilasciato, e successivamente per il Game Boy Advance. Anzi, ironia della sorte, i giochi supportati per questa console sono più per il Game Boy Advance rispetto che per il Game Boy Color. Parto sostanzialmente spiegando un attimino come funzionava l'infrastruttura originale dell'addon. Avevi il Game Boy Color che veniva collegato attraverso il classico cavo link, che altro non è che un SPI, ad un mobile adapter RGB, di quale in base al modello che avevi lo collegavi ad un telefono giapponese, il quale eseguiva una connessione dial-up al server del provider, chiamato appunto Dion e gestito da ovviamente sotto comando da Nintendo e Konami, e al suo interno c'erano due piccoli server, in realtà molto molto standard per l'epoca, un server web e un server email, classica connessione TCP, di cui nonostante l'addon supportava anche connessioni UDP, ma non abbiamo effettivamente visto nessun gioco che fa utilizzo di connessioni UDP ad un server. Questo, un'altra funzionalità che mi sono dimenticato di introdurre, scusatemi, è la possibilità anche di poter giocare con altri amici direttamente conoscendo il loro numero di telefono, quindi togliendo completamente tutta la parte dell'online. Questo infatti ha consentito ai pochi fortunati che erano riusciti a configurare un adattatore all'epoca di poter continuare a giocare online con i loro amici fin quando purtroppo verso fine 2020 il Giappone ha praticamente spento tutte le vecchie infrastrutture PDC, PH, PDC, DDI e CDMA1, rendendo completamente inutilizzabile l'adattatore. Questa è infatti una forma di peer-to-peer utilizzata dalla loro infrastruttura, che altro non era che una chiamata cellulare al tuo amico, sostanzialmente, o chiunque volevi sfidare. Un esempio che mi viene in mente è Pokémon Cristallo, dove la sfide online tra vari amici senza dover passare tra i vari server avveniva proprio in questo modo. Noi abbiamo un approccio un po' diverso alle cose, siccome non abbiamo la possibilità di poter avere un nostro BTS sostanzialmente per poter collegarsi. Oltretutto le tecnologie sono totalmente cambiate, anche in Giappone, di cui anche adesso si sta già valutando di spegnere il 3G, quindi siamo un bel po' in avanti. Il nostro funzionamento si tratta di partire dalla console originale e utilizzare un Arduino o una qualunque altra scheda, che può anche essere un Tensi o un Raspberry, con un particolare software chiamato Lib Mobile, che consente l'emulazione completa del nostro add-on, collegarlo a un qualunque, sostanzialmente un computer, a un qualunque dispositivo che supporta la connessione USB seriale e collegare, utilizzare il computer come ponte di rete per collegare attraverso i nostri server, di cui abbiamo un server in più noi e il server di autenticazione. Questo perché nella dial-up avevi l'autenticazione via PPP, una cosa che per noi non è possibile, quindi abbiamo implementato una nostra soluzione a parte. Il collegamento del peer-to-peer è sostanzialmente uguale, c'è sempre la parte di setup dei vari Arduino. L'unica differenza un po' diversa è che noi non ci appoggiamo alle tower cellulari per poter comunicare e farci una chiamata, ma ci appoggiamo ad un server relay che altro non fa che forwardare i pacchetti da un computer a un altro, sostanzialmente rendendo possibile la restaurazione del server, delle funzionalità peer-to-peer. Parto adesso con la parte, sempre un po' più nello specifico, la parte con il quale inizio a parlare è appunto della comunicazione del cavo link del Game Boy Color, di cui ad occhio sembra una normalissima SPI. C'è una piccola sostanziale differenza che non c'è lo slave select. Questo perché nel protocollo di comunicazione del mobile adapter GB, il mobile adapter era sempre slave e il Game Boy era sempre master. Quindi un funzionamento del genere è completamente inutile sul funzionamento di questo sistema. Oltretutto il Game Boy Color di base aveva un loro modo di definire chi sarebbe stato master e chi sarebbe stato slave con l'utilizzo di un orologio esterno che veniva sincronizzato alla seriale. Un orologio che per il mobile adapter viaggia a 64 KB per secondo. Questo orologio è configurabile ovviamente attraverso la console, sia dal lato della console, mentre dal lato del mobile adapter, a parte definire questa cosa non c'è, o comunque di un Game Boy, non c'è necessaria alcun'altra configurazione. Questo perché il Game Boy, o comunque lo slave, aspetta all'infinito un qualunque messaggio ricevuto. Potrebbe anche aspettare all'infinito? Possibilmente sì. Il flow di comunicazione, quindi come effettivamente qua è uno sguardo un po' più preciso ai dati, di cui parlerò un po' più nel dettaglio tra poco, è molto diviso. C'è una parte, ovviamente i due dispositivi devono sempre inviare e ricevere dei dati tra loro. Non esiste che un dispositivo solo riceve e un dispositivo solamente invia. Proprio per questo motivo, quando il Game Boy, che essendo il master, inizia lui la comunicazione, invierà una serie di dati riconosciuti dall'adattatore, l'adattatore risponderà sempre con un codice fisso, che è sostanzialmente un'attesa. Quando il Game Boy Advance poi passa nella modalità di ricezione, si comporterà allo stesso modo dell'adattatore. Difatti, come si può vedere, la colonna di 2, che è la risposta generica dell'adattatore nell'attesa di una ricezione completata, e B4, che invece è relativo per il Game Boy Advance. Oltre a questo c'è stato un grande studio per quanto riguarda gli effettivi dati con i quali si può comunicare con questo dispositivo, di cui inizialmente ci siamo basati solamente con i videogiochi, quindi ad esempio Pokémon Cristallo, che è stato il lavoro originale di Aki fatto su quel forum già nel 2016. Più avanti, il team poi si è più allargato, il progetto è diventato più conosciuto, c'è stata persone che si sono messe direttamente a vedere il funzionamento interno del mobile adapter. Quindi possiamo dire di averla aggiunto a livello di protocollo una documentazione completa. La maggior parte del lavoro ora è specifico dei videogiochi. Il protocollo è effettivamente molto semplice, parte con un magic che è 0x99, 0x66, un ID che sostanzialmente dice che tipo di comando si sta facendo, come può essere la lettura della configurazione del adattatore, di cui può contenere ad esempio il nome utente e le mail che abbiamo configurato prima, o può anche magari l'avvio di una connessione via telefono, chiamando un numero telefonico, oppure l'avvio di una semplice connessione ad un server di gioco. Poi c'è un byte che effettivamente quello non è stato ancora ben capito a cosa serve, ma si pensa sia un byte non utilizzato, comunque non importante. Una lunghezza che, essendo di grandezza massimo un byte, l'adattatore poteva comunicare al massimo 254 byte di dati. Questo perché la lunghezza conterebbe nella parte dei dati come il 250 centesimo byte, anche se qui effettivamente è lo zeresimo byte. E un piccolo checksum, che altro non è la somma di tutti i dati dei nostri pacchetti, scomposta in un intero a due byte. Successivamente c'è la parte finale, gli ultimi due byte, che corrispondono a, si può dire, una knowledge, sostanzialmente un ok per dire che la connessione è stata ricevuta correttamente, che sono composte dall'ID del telefono, dell'ID che si sta collegando, quindi ad esempio se il Game Boy si collega al Mobile Adapter, il Device ID sarà l'ID del Mobile Adapter, e l'ID di chi effettivamente sta inviando questo dato, quindi in questo caso quello lì del Game Boy, nel caso precedente. Ovviamente questi valori cambiano in base a quando è il Mobile Adapter che deve inviare questi dati. Il fulcro della reimplementazione si tratta di una libreria principale che avevo accennato prima, che si chiama Lib Mobile. Questa implementazione è un'implementazione generica e fatta apposta per essere personalizzata e riutilizzata, del adattatore. Questa implementazione può girare sostanzialmente ovunque. Noi a disposizione adesso abbiamo due back-end, di cui l'emulatore per Game Boy Color BGB e la parte invece dell'Arduino o qualunque chip generico Atmega, e è in corso di lavorazione anche un'implementazione per MGBA, un noto emulatore Game Boy Advance che consente anche di mandare online i giochi del Game Boy Advance, rispetto a BGB che ci limitiamo solamente con quello del Game Boy Color. Tra l'altro il protocollo del Game Boy Advance è un po' più particolare perché ha una speciale modalità che consente di inviare al posto dei classici 8 byte di dati, 1 byte di dati, ne consente di inviare ben 4. È una effettiva modalità chiamata 32 bit all'interno del Mobile Adapter RGB e serve per le comunicazioni ad alta velocità, un po' più corpose con l'adattatore in caso si utilizzano giochi Game Boy Advance. Un gioco che fa utilizzo della modalità 32 bit è Mario Kart Advance, rilasciato in Giappone. Questo è un po' più nel dettaglio l'implementazione di quello che è effettivamente lo scambio di dati. Si parte ovviamente con il layer applicativo che può essere in qualunque dato ad esempio di Pokémon o magari del mobile trainer per vedere le mail, con un layer di effettivamente di sessione che contiene l'effettivo protocollo che si andrà ad utilizzare come HTTP, SMTP, POP3 e così via, e una parte di link dei dati che contiene effettivamente da una parte, come si può vedere, la parte del Game Boy che comunica con l'EB Mobile o comunque l'adattatore il quale scambiano attraverso il protocollo del Mobile Adapter. Poi per quanto riguarda l'implementazione del computer, che purtroppo non mi ci stava in una slide, quindi è venuta staccata, utilizza un suo protocollo specifico creato da noi per la comunicazione dei dati, la lettura dei dati. E dopo c'è un layer fisico che da parte del Game Boy corrisponde sostanzialmente all'SPI, la parte del cavo link del Game Boy, mentre per un computer è un classico presa USB funzionante con RS232. Questa è invece la parte specifica per quanto riguarda il computer, che altro non è che la lettura dei dati fisici dalla seriale, e successivamente si utilizzeranno le risorse del nostro computer per potersi collegare ad internet. Questa che invece vedete qui è l'effettivo schema di implementazione dell'adattatore su un Arduino. È un circuito, come potete vedere, molto semplice, l'unico componente un po' particolare è il pinout del cavo del Game Boy, dove puoi collegare un cavo link, al quale si può acquistare anche per pochi euro, ad esempio da OSH Parco, comunque da qualunque sito, di cui lo schema di collegamento per chi ha un attimino di dimestichezza con un Arduino è un classico SPI, l'unica differenza è il pin 10 che corrisponde allo slave select di quale ho parlato prima, che è un pin che viene collegato sempre alla massa, per fare in modo che segnali sempre all'Arduino che noi siamo il master che controlla tutta la comunicazione. Dal cavo link, piccola nota, ci sono due pin non collegati, uno è la VDD che è la porta a 5 Watt, di cui per un Arduino non c'è bisogno, siccome avrà un'alimentazione esterna, e un altro pin che è quello lì dell'SD, che è il serial data, che è specifico per il Game Boy Advance. Infatti questo circuito qui è pensato per il Game Boy Color, ancora non siamo arrivati, seppur c'è un po' di lavorazione, anche per l'effettivo circuito funzionante per il Game Boy Advance. Si pensa magari con un voltage switch, siccome sia l'Arduino che il Game Boy Color lavorano a 5 Volt, mentre il Game Boy Advance lavora a 3.3 Volt. Infatti quando si collega una cartuccia del Game Boy Color, il Game Boy Advance passa in una modalità 5 Volt per la porta seriale, per consentire l'emulazione dei vecchi, sostanzialmente la retrocompatibilità con i vecchi add-on. L'ultima parte che volevo trattare è l'implementazione del back-end, quindi un po' effettivamente come funzionano i dati, e non è in realtà nulla di particolare. Si tratta di un semplice server HTTP 1.0, in chiaro, TLS ed SSL per un Game Boy Color, la vedo un po' infattibile. Noi abbiamo re-implementato, nonostante il sistema originale utilizzasse CGI, quindi penso server Apache, abbiamo re-implementato il back-end specificamente in PHP per alcune funzionalità, come ad esempio le funzionalità di scaricamento e download per i Pokémon Cristallo, per lo scambio di Pokémon online, e altri back-end un po' più specifici, come ad esempio un Chrome Job per Pokémon Cristallo, per persistere i dati in C Sharp, e anche un server mail nostro, siccome i server che abbiamo utilizzato precedentemente sono, ad esempio, Postfix, sono un po' troppo grandi e con troppe funzionalità rispetto alla nostra idea, che è sostanzialmente uno scambio di mail nella nostra intranet, quindi nel nostro piccolo mondo del Game Boy, e il server mail è stato re-implementato in JavaScript con Node.js. Al qualche cosa particolare, si può notare l'user agent cgbbxtj00, che corrisponde all'identificativo della cartuccia, e un piccolo token che corrisponde all'autorizzazione per poter accedere a questa effettiva pagina. Per quanto riguarda invece la parte del server mail, sono un classico POP3 e un classico IMAP senza alcun tipo di modifiche apportate, con originariamente anche la possibilità di inviare online, di cui noi l'abbiamo cancellata. L'unica differenza è che non c'è alcun tipo di autenticazione, quindi a livello sicurezza, se tu possedevi l'indirizzo IP del servizio online, che altro non era che gameboy.datacenter.net.jp, ti collegavi al loro server IMAP, siccome era senza autenticazione, potevi inviare mail a chiunque. Diciamo che Nintendo sulla parte di sicurezza ha un po' peccato sostanzialmente. Questo è quanto. Avevo preparato anche una live demo di cui purtroppo il codice dell'Arduino mi ha abbandonato, quindi mi dispiace, non riesco a mostrarla. Piccoli ringraziamenti da fare, ovviamente l'ESC per avermi consentito di fare questa mia prima esperienza come speaker effettivo. Ovviamente tutta la gente del progetto Reon, di cui non ho citato nomi uno per uno, ma siamo anche ben dieci persone, di cui è anche gente che ha contribuito molto alla documentazione, ed è parte delle informazioni che sappiamo oggi, e anche a tutte le persone che mi hanno un po' seguito in questi giorni di velocità e mi hanno anche aiutato a poter impostare tutto quanto. Grazie a te, Cristian. Ovviamente se c'è qualche domanda mi sa che questa volta ce ne sono. Quindi Valerio? Perché? Scusa. È bellissimo mandare una mail da un Game Boy, ma io voglio sapere perché ti sei affascinato a voler fare questa cosa? Richiede un sacco di tempo a fare una cosa del genere. Grazie. Aspetta che arrivo. Allora, il perché mio è un perché in realtà un po' divertente, anche se un po' avevo pensato chissà come potrebbe essere un effettivo sistema online di base per poter giocare magari in tempo reale, magari a qualche gioco che potrebbe essere un Mario Kart o un Pokémon in tempo reale da una consolina così vecchia. Io sono partito dalla base Game Boy Advance, quindi è la prima console che ho pensato, è stato proprio il Game Boy Advance, di cui, diciamo, le console dell'epoca come PlayStation 2, Xbox, GameCube, già andavano online. Perché con il Game Boy non è stato niente? Non sapevo in realtà nulla di questo progetto, l'ho scoperto un po' per caso, girovagando tra la seconda generazione di Pokémon, Pokémon Cristallo, che ho citato precedentemente, di cui un Pokémon particolare, non so se sei pratico con la serie, si chiama Celebi, è un Pokémon specifico, proprio un evento che si poteva accedere solamente con l'utilizzo di questo addon. E qui sono stato un attimo introdotto in questo mondo, e ho iniziato a vedere, già lo seguivo anche un po' prima dell'avvenimento di Reon, iniziato a vedere un po', chissà se qualcuno ci ha fatto qualcosa, ai tempi io non ero capace di poter fare tutta quella documentazione. Poi, vedendo il post su quel forum, è partito lì tutto quanto. Un altro utente ha creato il disco e sostanzialmente si è fermato questa piccola setta, almeno questa per noi. Aspetta che arrivo col microfono. Hai detto che l'adattatore è stato introdotto il 17 gennaio 2001. Tu eri nato? Aspetta, è una domanda a seguire, scusate. Sì, è intanto un link al progetto Reon, perché cercavo, ma forse ho sbagliato le parole chiave, non ho trovato granché. Seconda cosa, la vostra piccola setta è internazionale, aspetta che arrivo. Sembrava un'affermazione, ma in realtà era una domanda. Ok, allora, rispondo a... allora, rispondo prima alla prima domanda che... Ottavio... Sì, allora, per quanto riguarda il 27 gennaio 2001, no, io sono nato il 19 febbraio 2001, quando sono nato, questo servizio era in corso, sono molto giovane, effettivamente, ma sono cresciuto con il Game Boy Advance, è stata la mia prima console, e ho sempre avuto un po' il pallino, la passione per queste tecnologie un po' antiche, sono molto curioso per come effettivamente funzionavano. Per quanto riguarda la sua di domanda, il link lo metto nel gruppo dell'ESC, dove abbiamo... C'è anche sulla wiki dell'ESC, come mi ha fatto notare. Sì, e siamo un team internazionale, di italiani, ce ne sono pochissimi di quelli che contribuiscono, penso di essere l'unico italiano. La maggior parte sono, provengono dall'America o dalla Spagna. Giapponesi, ce n'è qualcuno che ci dà una mano per le traduzioni e leggere il contenuto, ma mai nulla effettivamente di più che già. È tantissima cosa perché riusciamo a capire magari quello che c'è scritto in un gioco o quello che prevedeva una particolare modalità. Altre domande? No. Grazie mille a Harvest e un applauso per lui. Applausi.